Questo pezzo lo vogliamo dedicare a una giovane giornalista che ha scritto una recensione soprattutto parlando di brano per brano e questo in particolare ci era molto piaciuta si chiama My Evil Twin, con te però non saremo mai cattivi eh, mai 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 A questo bleibtonicale Origin grabbet…. Perchè , portali, a rinchi, luatene di cattolo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.